la cindy toco non sento carico, aspetta c'è gente lì aspetta aspetta era uno bella vedi, troppo carico io cazzo ho troppa mira adesso una cindy toco, fidati siamo molto più mira di prima no, mi sono messo a cambiare, non ti credo, mi ero messo a cambiare all'inventario vaffanculo, mi stava sparando è al meglio, è al meglio, no, stai tranquillo, non va dentro guarda che ero fermo alla metà di inventario fuori e la finezza, mi recupero le pozzette mi stanno volando addosso, credo, aspetta si, dentro di volare qualcuno si, ma si sono ammazzate di loro più o meno vedo dove sono se sul tetto dell'aerato dove andavamo noi si, si, ho attaccato oh, ho attaccato uno oh, ho visto, due, due, due o no, due, si, si, due kg due ne fatti, due ne fatti, ho visto da qua sotto eh, guarda, le gannate le ho buttato eh, ma lo hai poter ribalzare, hai le pozzette? l'ho buttata la parola ah, che l'hai ribalzato dov'è che sono le pozzette? ah, si, so qua, sono qua, le hai presi ah, si, lo salto, mi serve, aspetta questa stessa stiamo, tutta la bomba qua, e tutta la bomba qua, non la posso io ho ancora mai ribitte due pozzette oh, oh, qua, questa scala è nuova quale? la mia, mia mia ah, se no, laggiù a 2.10 oh, si metta qua un po' ah, laggiù, in fondo ah, insomma, stanno correndo a 60 ah, in fondo? si, lo sento no, come è lo fai quelli lì, AS10 qua si, si ah, laggiù, sono ancora lì dietro special, guarda che stupidi che ballano, aspetta cazzo, l'arma scala hai fatto due, c'è quello vabbè, non te muore anche l'altro l'abbiamo, però è morto oh, no, non ci credo di tenere perché le ho tolto, le ho tolto 8, 7, 66 e non è morto e ho io, boom ok, le hai creato con colpo, non è possibile però cioè, ma è tutto più io da qua, mi sa sì, ecco, 8, 7, 66 io ho 49, mi sembra, se lo sto vieno sì, vabbè vabbè, vabbè, basta che lì ho la mira adesso va vabbè, tutta la luta non ce la vengo oh, mi sparano dal lago ne ho in due prendo la meteorite li ho visti comunque a sud no, mi stanno sparando almeno ok, uno è stato 60 all'altro mi stanno le granate morta un tiro, un pieno di culo ah, li vedo sì, sì no sì, sì, vabbè è così il gioco mi li tirano le granate mi beccano tutto eh, fai quello che riesce oh, dietro il termine oh, quanto giro in cuneo ne hai giro in cuneo ma non c'è giro in cuneo aspetta che devo caricare mi tocca a custodia un attimo eh, poi se riesci a rianimare ma che cazzo di me vabbè, vai, corre di verso di me cazzo oh, e ma certa gente no, no, no era lontano oh, caracca ho intanto le bende e due post che è la cosa che vorrei fare cioè, sei grato ah, io ho la sfiga sempre che mi assista sì, sì ho la sfiga che mi assista ha tirato le uniche due bombe che ha tirato mi hanno che sono esplose nel momento in cui vabbè, la sasna 2 di più neanche viene nervosa cioè, ha tirato le bombe sono ribattite sulla casetta e mi hanno beccato non so come in alto subito in alto e senza i muri dietro che non ti si incastrano tipo dietro ebbe così eh, no, ma volessero una scala esplose proprio esplose proprio sopra di me è un sottuomo però oh, è lontanissimo devo andare oh, è un trampolino bella il trampolino il trampolino mi sono rimasti 5 pozzette e due medikit e un falò anche due pozzette e un medikit ma a me sono senza salto oh, è il medikit che ho trovato a te mi hai detto ma ce l'ho ancora però non so se andare subito e basta tipo io al me al col io ho visto gente qua guardami un attimo mentre io da Pinacoli c'era qualcun altro che andava tipo più assurdo quindi mentre fai tali quelli lì ho visto gente qua ah, ecco l'ho visto fare la scala in mezz'ora tipo ah, ecco l'ho visto la, la, la bella che sporca l'albero si, guarda che come sono nabbi quanto l'hai fatto? non ha vita uno non ha vita uno, non so chi dei due tira un colpo muore le trovo tutta la sculpa ecco quello o non so i due mi faccio il medico il lato è ricamperato qua avanti si, vabbè vado lì ho i miei pompo fidati lasciami fare il mio ma è nabbo eh allo schermo no, forse allo schermo non so ma che cazzo fa? guarda io lì ho preso ma ma che è troppo comodo fatti, la, la, la slap se vuoi così ragazzi quanto cazzo è comodo giocare così adesso tente ora non sbagli più a colpo oh, io ho fatto tessere chi è slag? è lì dell'alto è fin là devo andare fin da anni 6 tanto dopo già un piano vieni qua ho il trampolino lo devo mettere qua eh, lo inizio qua ok dov'è che lo stia iniziando? ah, c'è fatto bene dov'è che lo stia iniziando? eh, qua qua, qua c'è altra gente lontana a sud eh, mi sono indietro la stia iniziando non so hai messo indietro la stia iniziando non so non so quanto è vai direi basta 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 ok c'è l'italia lontana a sud c'è lontana sono usciti ok ok vedo ci facciamo il faraotico cosa è lontana? eh, non più a sud a destra, a destra lontana 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 a destra si, si, qua vieni d'albero ciao non è un'estrutiva cazzo è lontana sono 36 c'è una sinistra attenta, è a sinistra sono in due attenta lo sapevo eh, ho fatto una cazzata come siete? siamo in 12 un lanciacchino attenta che lanciacchino qua è un lanciacchino eh, mi tocca più fai eh, puf puf questo con la destra che è più nato sembra sembra ok chissà sta salendo quello, lo vedi? ok questo non lo spiego adesso? io poi, domani? si, sembra più nato eh, sotto stanno a dire facciamo la finita è lì, è lì, non lo vedo si, si, no, no è lì stupendo le scade lo vedi, vedi non mi vede tanto non lo vedi ma sembra stupido eh, ma hanno altro stupido scatemi ancora 50 di vita io lo pusherò se non mi pare a latinirmi oh cazzo si, 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 sta avvicinando no, no, ti sta spagando bravissimo, bravissimo bravissimo ti ha pushato con la credo vabbè, prova la coraggio vai no, no, primi materiali io ho 300 di... oh cazzo no, non ti ha pushato buon'altro, che fortunato mi metto il medikit e... si, ho appena lanciato la razza si, si, si ha pushato, ho pushato aumenta eh, due o tre diventa le pozzette senti, più viti si, 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 si io mi copio, io mi copio tranquillo mi sono fatto la torre io devo mettere il medikit mi sono chiantato il medikit bene, bene, bene sto caricando la lancia razza e due razze Lo sento che cammina qua vicino Qua direi per me ha vizi, non ha vizi, scupito, stupito, per te Ho mancato godazzo Cioè vedi ma... dai tanto lo vedi il gioco come è fatto Cioè io ho come un sacco, io ho preso tre sacchi e lui mi ritira uno e mi fa spittare E a me mi lascio solo un medico, sai poi, ci stanno spagando Quanti materiali hai? Io ho 340 Ti do questo Hai il cerchino tu? Sì È lì il tipo Poi c'è il cerchino degli altri, scopermi il cubo meglio È lì dove c'è fatto il muro proprio Sì sì sì, quello quello Io mi provo a pusharlo tu, io lo distraggo vai Sì, ti potrei avvicinarti e ti costruisci via Eh, allora faccio... è drame Ma la tecnica Tattica, viste? Sì, guarda, è una cosa migliore Perché uno sempre si sente minacciato e non vuole lasciare l'altro, cioè, li pushi così, senza che gli spari Aveva due armi qua Posto, ma vero, la bove Non è sempre quanto il tempo Non è neanche l'assalto, solo sta mitralietta Anzi, non ha prendo neanche, prendo le garanti appiccicose Ma che ho fatto ancora Oh, guarda, le garanti qua, più funghi legne, vuoi un po' Sì sì sì, ho 320 Comunque non l'ho cambiato Ah, vedo, adesso Ah, c'è la pelle Ti ha chiuso, non fanno cose sane Lo sta facendo Non so Ma che cazzo fa? Cazzo c'è Thanos Ti sta salendo da dietro, vedete con l'altro C'è alzato uno C'è alzato uno C'è alzato l'altro Ok Ci mancano due Eh, c'è due Ho forse capito che sono forse L'ultimo lo lasciamo, dai C'è nel senso, lo vengo da forza C'è nel senso C'è nel senso Ehm, mi faccio un melee kit Ehm, mi faccio un melee kit Give me one sec Ah, li ho già visti Non è vero che non l'ho beccato, non è vero Tre Ok, il Z1 Eh, bello Ehm, dimmi da quelli nato L'altro lì, l'altro lì, l'altro lì Però lo potrei tipo 3, 2, 1 Aspetta 3 2 No, no, lascialo Allora, John Wick lascialo vivo Che io l'ho già cecchinato il suo mito E' lì E' lì John Wick Si cecchino da mito Non ho bastato Ok, tanto lo vedo Ok, ok, lascialo qua Facciamo di 360 Tante qua sto di me Si Lì nella melma, boh, non so Si, li faccio di no a scoop Che cazzo sta facendo? Facciamo che noi andiamo in safe Vieni in safe, perché magari lo scattiamo lì dai cammelle Vabbè, intanto che parte, dopo mi collego qua Posso di costruirlo? Si ce l'ho Dov'è? Non lo vedo eh Ah, lo potrei cecchinare, guarda Li vedo la testa Ma è sempre lì sotto la troca Si si, li vedo Ah si, adesso lo vedo Sta andando a ruotare l'amico Si si Ok Quindi faccio qui scoop No no, qui scoop No no Guarda che non lo vedo E' sempre lì doveva Lì ha messo l'amico Li tiro una hit dai Per se no magari lo becchiamo non muore Il cazzo è Thanos Ok cazzo, non trovo la scuola Aspetta E cazzo basta, non ti scudo Ah, che vuoi fare amico? Eh che si Eh, vabbè, tanto io lanciare il cazzo se non so più di lui Vabbè, devo uscire se Dov'è? Uh, sto pelato amico Esci Non lo vedo tu Evi qua, qualcuno è dentro, è entrato qua, è entrato qua, lascelo qua, aspetta Ah, mi sto seguendo Oh, mi scariggia, mi sta scarizzando Mi scariggia, mi sta scarizzando Oh, oggi Ah, è vero Sì Ah, perché ne hai giocato? Eh, 2000 È vero 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 Autore dei sorrisi